Io sono Vittoria Mainoldi, curatrice di O&O Arte Contemporanea. Per il secondo anno di fila lo sforzo congiunto di O&O Arte e delle Nozze di Figaro portano a Palazzo Medici Riccardi un'altra mostra a tema rock. Dopo David Bowie arriviamo ai Nirvana e al Grange. Questa però non è una mostra solo a tema musicale, ma una mostra che si apre a tutta quella che è stata la cultura popolare degli anni 90. Un periodo di profondo cambiamento, anche sociale, che attraverso le immagini di Charles Peterson e di Michael Levine rivive fino al 14 di giugno. La mostra segue un percorso cronologico e le opere di Levine e di Peterson interagiscono perfettamente in un dialogo fatto di bianco e nero e di colori. Peterson è stato fotografo nativo di Seattle, che ha seguito la band Sien dagli esordi, così pure anche Levine, che però è originario di Denver, Colorado e poi naturalizzato new yorkese. Fotografo prestato al mondo della moda, del cinema, delle produzioni televisive, non solo quello della musica. e quindi abbiamo un alternarsi di scatti effettivamente posati in studio che ripercorrono la storia della band a scatti invece di live, di backstage, scatti da palco, nelle foto di Peterson, che ci restituiscono anche un po' qual era il clima di quegli straordinari anni 90. Non solo le band, che non si limitano appunto ai Nirvana, abbiamo un'ultima sezione dedicata anche a quella che era un po' la scena di Seattle, ma anche semplicemente al pubblico, ai fan. Questa però non è una mostra semplicemente per i fan, è una mossa appunto che parla a molte generazioni, infatti come per David Bowie abbiamo esperito che i Nirvana attirano veramente dai ragazzini di 15 anni, che ancora non erano sicuramente nati quando Carl Cobain era già morto, fino invece appunto alle signore ultra settantenni che mai avremmo sospettato, ecco perché hanno lasciato proprio un segno anche nel mondo della moda, ovviamente del costume. Tante delle t-shirt che ancora indossiamo sono evidentemente, richiamano quegli anni lì, nascono da quegli anni lì. Ovviamente la storia di Nirvana è anche la storia di Kurt Cobain, che è anche una storia personale. Il motivo per cui abbiamo scelto i lavori di Peterson e Levine è perché entrambi intrattenevano una relazione amicale con Kurt, e le foto lo raccontano al meglio, raccontano al meglio anche l'evoluzione non solo della rock star, ma anche dell'essere umano. Infatti nei primi scatti della fine degli anni 80 e primissimi anni 90, vediamo un Carl Cobain oltre bellissimo, come tutte le fan lo ricordano, ovviamente è anche felice, gioioso, rilassato, sul palco rilassato con i suoi compagni di band. Evidentemente con lo scorre del tempo, negli scatti del 92, troviamo invece un Kurt Cobain sempre più stanco, sempre più provato dalla droga e umanamente, psicologicamente più spossato. La storia di Kurt la conosciamo tutti e anche la storia della sua famiglia, di Kurt Ney Love e della figlia Francis Bean, di cui appunto in mostra abbiamo delle bellissime foto.